Ciao Italia, sia sto qui in Denkinec, oggi voglio parlare del consiglio europeo più lungo della storia che si protrae anche oggi lunedì e voglio partire dopo aver ricordato e ringraziato per la donazione, ringraziato di cuore per la nuova donazione una tantum Angelo e per la donazione mensile Giorgio, vorrei riportarvi questo tweet di una persona, Alessandra, che scrive hanno gli account con la bandierina, girano con le mascherine tricolore e poi quando c'è da sostenere un uomo che come un leone si sta battendo per l'Italia gli tifano contro, finti patrioti che odiano l'Italia, chi la ama in queste ore è con Conte, Conte che fa entrare i clandestini e a livello economico non è il massimo degli aiuti per gli italiani colpiti dalle misure introdotte da Conte contro l'epidemia. Comunque andiamo avanti, che porta avanti quell'agenda di sostituzione etnica graduale per gli italiani, cioè non aiuto delle nascite degli italiani, dei figli degli italiani, ma prendere i figli e le persone che vengono dall'altra parte del mondo quasi sempre in maniera illegale, in maniera massiccia. Poi Recovery Fund, andiamo a leggere le ultime sul Consiglio europeo che ripartirà le due di questo pomeriggio a Bruxelles naturalmente. Oggi nuovo round di negoziati a Bruxelles, scrive Anza. Conte Michel, che è il Presidente del Consiglio europeo, proporrà una soluzione da 400 e una da 390 miliardi, quindi si abbassa la soglia dei cosiddetti regali che in realtà devono essere pagati da tutti i cittadini europei, ovviamente, sono soldi veri. L'attenzione è rivolta al nuovo round delle 16, come ha anche ricordato, mi sono sbagliato prima. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, austriaco, appunto. Terminati i negoziati difficili, possiamo essere soddisfatti del risultato di oggi. Si continua nel pomeriggio. Vedete la foto con Conte abbastanza abbattuto, provato dalle lotte come un leone, come scrive la sua fan, come ha scritto prima la sua fan su Twitter. E andiamo a vedere Ezio Mauro che ha la medaglia d'oro per... Io veramente ammiro queste persone che, imperterrite, stanno fedeli al loro globalismo, al loro capitalismo globalista, al loro europeismo. Sentite cosa scrive. Più che un problema economico-finanziario, infatti il Consiglio dei capi di Stato e di governo affrontava una questione di potestà? Potestà? No, di sovranità nazionale. L'Unione Europea è per antonomasia l'opposto della sovranità nazionale. È un organismo sovranazionale che vuole attraverso le burocrazie scavalcare, se non distruggere, l'autonomia dei popoli europei, delle nazioni europee, delle nazioni considerate anacronistiche perché ottocentesche. Sentite Conte come tuona contro Rutte. Ognuno ha il suo Salvini. Guardate che Rutte, caro Conte, Rutte è europeista, è amico del PD, amico del sinistre globalista, è liberale, è liberale di centrodestra stile Berlusconi, è anche molto più progressista, regressista e quindi per il pensiero unico, per l'Europa europeista. Ma di cosa parlate il nuovo Salvini, Salvini, Orban? Sempre le solite cose. E voglio rispondere a qualche imbecille che ha scritto di ieri sotto il commento, sotto al mio video di ieri, riguardo ai fondi europei, alla solita veramente propaganda ungarofobica dei fondi europei strutturali ungheresi. Allora, questo è l'influsso e l'afflusso, come si può dire, il guadagno e le uscite nei paesi del centro Europa, qui c'è da perdonare il blogger francese est rispetto alla Francia, ma è centro Europa, Vicerad. Per ogni nazione del gruppo di Vicerad, quindi le entrate nette e le uscite nette rispetto al mercato unico europeo. Vedete che all'ovest europeo conviene molto usare la mano d'opera e anche le tasse, il sistema fiscale delle nazioni europee, gli operai, per esempio, ungheresi, ciechi, eccetera, e quindi delle nazioni con molto potenziale di crescita, a differenza dell'ovest europeo, che in molti casi gli europei dell'ovest, lo dico da italiano, soprattutto gli italiani, se la devono prendere con i propri governi, che non stanno facendo nulla per evitare la delocalizzazione delle imprese dall'Italia, anche estere, delle multinazionali, per esempio, americane e tedesche. Quindi dovrebbe essere il governo Conte, Berlusconi, Salvini, chi sarà, non lo so, qualsiasi governo, a farsi rispettare con le aziende per salvaguardare i posti di lavoro degli italiani, dei cittadini dell'ovest europeo. Non devono essere i governi e il gruppo di Vicerad da salvaguardare gli interessi dei tedeschi, degli italiani, eccetera. Questo, secondo me, è di una banalità assoluta, che non volete capire voi globalisti. Ora, voi voglio portare anche, che cosa dice il video di M1, un servizio della televisione pubblica ungherese conservatrice governativa, dunque di Fidesz. Si racconta come Conte abbia ripreso duramente Rutte, il premier orlandese, eroe in patria per qualche giorno, ma responsabile di fronte a 500 milioni di europei. L'avrete sentito anche nei TG italiani. Si danno dei dati rispetto ai frutti del mercato unico europeo, il mercato unico. Sapete chi guadagna di più dal mercato unico europeo economico? La Germania, entrate 208 miliardi a fronte di spese di 32 miliardi di spese. Poi c'è l'Olanda, 84 miliardi e spende 6,8 miliardi. E come tutti i paesi frugali, beneficiano del mercato unico europeo. Non ci sono solo i fondi europei strutturali, quelli famosi per l'Ungheria che ruba tutto, cari miei ungarofobici globalistelli. Altro dato conseguente è che, ad esempio, l'Olanda è quella che contribuisce meno al bilancio europeo, avete capito bene. Fornisce solo lo 0,8% al bilancio comune contro l'Ungheria che fornisce lo 0,98% ed è molto, molto, ma molto più povera perché ha subito la dittatura di voi comunistelli, voi che supportate i comunisti, il comunismo, l'ideologia criminale comunista che ha rovinato interi popoli europei per decenni, mezza Europa per più di 40 anni. Vi dovreste vergognare e non supportare l'estrema sinistra. L'Olanda ha un regime fiscale molto concorrenziale e nessuno ne chiede la riforma come paradiso fiscale, penso anche a Lussemburgo, all'Irlanda. Capito che con il Maggiaro non si scherza, qui troverete sempre un muro quando parlate della vostra propaganda, dei vostri media allineati, ultraliberali, neomarxisti come Fanpage, come Affington Post, come Repubblica, il Gruppo Jedi, eccetera, eccetera. Voi troverete sempre un muro con il Maggiaro perché qui c'è una persona che si informa anche dall'altra parte della barricata, in Ungheria, e dovreste rendervene conto quando criticate in quelle maniere vergognose e dopo non vi lamentate delle risposte dure che do. Poi voglio portarvi un articolo di Modior Nemzet che parla appunto della dottrina Brezhnev che sembra imperare nell'Unione Europea che assomiglia sempre di più all'Unione Sovietica e non parla a vanvera. Vi do un sunto. L'Unione Europea segue la dottrina Brezhnev, come dice il titolo. È la patria del, patria si fa per dire, del liberale globalista capitalismo di oggi che chi devia dalla linea ufficiale per questioni economiche, immigrazione, LGBT, eccetera, deve essere punito, diffamato attraverso i media neoliberali e neomarxisti come l'Italia per quanto riguarda l'economia, come l'Ungheria per quanto riguarda l'immigrazione, l'LGBT, la Polonia. Nessuno può pretendere sovranità nazionale, indipendenza. Capito? Ezio Maur non potè sta, sovranità nazionale. Come la Cicoslovacchia nel 68 non poteva deviare dal socialismo di Mosca, come ogni paese del patto di Varsavia, come l'Ungheria nel 56 prima. L'UE, come l'URSS, ha linee regressive per la società che la porterà sempre più in crisi e questa è una profezia troppo facile per me. Per ottenere l'allineamento dei popoli europei e delle nazioni europee deve omologarli e questo richiede molto tempo e sforzo. Ecco gli attriti di questi giorni anche a livello economico. Poi vi porto un altro articolo di Modior Nemzet. L'ex ambasciatore, perché l'Unione Europea e gli europeisti sono quelli liberali, neomarxisti, quelli che attaccano l'Ungheria. L'ex ambasciatore a Budapest olandese ha paragonato l'Ungheria in passato allo Stato Islamico, all'ISIS. Perché non prende gli immigrati, non li accoglie, non li accoglie. Avete capito? Quindi i buoni sono quelli che prendono l'immigrazione clandestina di massa, molte volte clandestina non sempre, e sostituisce gradualmente la propria popolazione, tradisce i propri figli, il proprio sangue. Pensate che bravi che sono i liberali e che brava è l'Unione Europea, gli europeisti tanto amati dalle sinistre italiane e dal PD. Santa Sofia, la stessa Europa liberale e neomarxista, Santa Sofia, icone cristiane coperte durante il culto islamico. Questa è una notizia di poco fa ad Istanbul, nessuno dice niente. Un uomo di 39 anni richiedente asilo clandestino che stava per essere rispedito a casa nel Ruanda è stato preso in custodia per l'incendio della cattedrale di Nantes in Francia di qualche giorno fa. Poi è stato rilasciato, ma nessuno ha detto niente sui telegiornali, ho visto il Tg1, quelli importanti, quelli che non danno fake news. L'Angelus Bergoglio, nessun pensiero per la cattedrale di Nantes incendiata in Francia, nessuno se la prende con il Papa, il Papa che volta le spalle, sembra che volti le spalle alla cristianità, non si indigna neanche lui durante l'Angelus, almeno a fare una preghiera per la cristianità presa di mira in Francia come in tutto l'Ovest europeo, sempre per più scristianizzato. La stessa Europa liberale e neomarxista che non dice nulla per l'islamofobia questa sì, la discriminazione dei musulmani uiguri nella parte ovest della Cina del regime comunista cinese, comunista, perché la stessa Unione Sovietica, Unione Europea sul modello Unione Sovietica ha un certo rapportino, cerca di velare lo schifo che fa la Cina, o almeno il presunto schifo che fa la Cina. Qui abbiamo, non so se sono delle riprese, delle prove certe, però abbiamo delle riprese di droni, in una stazione ferroviare dai vagoni scendono e salgono dei veri e propri prigionieri di campi di rieducazione del Partito Comunista, Partito Popolare, trattato molto bene anche dalla RAI in Italia dai medi allineati, dell'Europa liberale e neomarxista, gli uiguri vengono incatenati e vengono allevati, so che è un termine orribile, per la vendita di organi eccetera. Questo la Cina non è islamofoba per gli allineati come lo è l'Ungheria, come lo è la Polonia, noi siamo gli islamofobi, noi che vogliamo solo vivere in una nazione e farla rimanere europea, bianca e cristiana, noi siamo gli intolleranti, mentre la Cina comunista è quella che va bene per l'Europa. Bravi, complimenti e continuate a criticare me e criticare il gruppo di Visegrad. Se volete lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi e fate, se potete e volete, una donazione anche mensile per supportare il lavoro. Alla prossima, vi slatta, arrivederci.